ciao bambini dall'ognomo faunetto per voi sto preparando un gustoso dolcetto benvenuti nella fabbrica delle uova di cioccolato al villaggio di primavera flover di bussolengo la favola si rinnova e se nell'officina del cioccolato i simpatici gnomi accolgono i bambini raccontando i segreti del loro mestiere le porte del villaggio si aprono con le bancarelle degli artigiani al lavoro un modo diverso di vivere la voglia di primavera con innovative idee per decorare il vetro ma anche originali poesie personalizzate che accompagnano le composizioni floreali i colori primaverili sono il tema delle stanze di tendenza un tavolo con altalene è proposto in un'ambientazione ispirata al mondo di alice nel paese delle meraviglie mentre se con il primo sole vi tornasse la voglia di mare ecco a voi la stanza di messico e nuvole nella stanza country club un tavolo apparecchiato a festa richiama l'ambiente dei campi da golf e poi non potevano mancare gli amici animali e tutto il settore a loro dedicato lui è alvin uno dei tanti roditori che si trova qui nel reparto animali insieme a volatili pesci rettili e a tutto necessario per prendersi cura di loro villaggio di primavera flover a bussolengo un mondo di idee proposte per lasciarsi alle spalle il grigio dell'inverno ed aprire le porte ad una ventata di colori una fiaba per vivere la pasqua toccando con mano tutte le novità per il decoro della vostra casa e del vostro giardino e allora anche a nome dei nostri amici animali una buona primavera a tutti grazie grazie